Michele, ti dico solamente questo, che sono venuto da Torino, ho preso il treno e sono arrivato prima a Roma, a Roma ho preso la macchina, poi con la macchina sono venuto fino a qua giusto in tempo per stare a Cina con te e festeggiare i tuoi 60 anni con tutto il cuore. Sai che ti voglio bene e sai che non farei mai la tua imitazione, mai proprio, non mi permetterei mai di farla, proprio non ci riesco, proprio perché ti voglio bene. Ciao Michele! Buonasera, siamo qui per festeggiare il compleanno di Michele Gentile, è una cosa molto carina, è appena cominciata, siamo arrivati ai primi prosecchi, i primi frittini, siamo tutti contenti perché fuori fa freddo, qua si sta bene, fa caldo, c'è la musica, il mandolino, questo è finito, adesso mi prendo un altro, tanti auguri Michele e ci vediamo più tardi, ciao!